Ehi la, ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi farò vedere come nascondere l'anello. Video molto importante perché, come ben sapete, la femmina ogni giorno cerca di pulire il nido. Questa è una cosa molto positiva, ma delle volte pensa che l'anello sia della sporcizia, ok? E prova a togliere l'anello dal piccolo. E oggi farò vedere come evitare questo. Salut les gars, comment ça va? J'espère che tu va bien. Quindi oggi, la video è molto importante perché, come voi sapete, la femmina sempre tenta di riposare il nido. E, a volte, quando vedo la baghe e pensano che sia di salta. E, ovviamente, tenta di riposare la baghe e, a volte, ci sono dei grandi problemi. Quindi, oggi, io vi mostro la soluzione. Hey, ciao ragazzi, come state? I spero che tutto va bene. Quindi, oggi, io vi mostro come evitare il nido, perché, come sai, la femmina ogni giorno tenta di riposare il nido. E, a volte, se si vedo la baghe, si va provare il nido, si va provare il nido. E questo è un problema grande per noi. Quindi, oggi, io vi mostro il nido questo problema. Assalamualaikum, come va a fare? E spero che voi stai bene. E oggi, vi faccio vedere come evitare il nido. E questo è importante perché ogni giorno, l'anello si tratta la tua vita, e si tratta la tua vita, e si tratta la tua vita, e si tratta la tua vita. E questo, vi faccio vedere come fare per la tua vita. Allora, ragazzi, vediamo un piccolo sorpreso per favore, un piccolo regalo, è un'estrazione che farò per voi, e ve lo dirò alla fine del video, ok? Ragazzi, ho un piccolo cadeau per voi, guardate la video fino alla fine, così voi sapete qui, ok? Ragazzi, ho un piccolo sorpreso per voi, solo guardate il video fino al fine, e vi faccio vedere il sorpreso, ok? Allora, ragazzi, vi faccio vedere l'occorrente. Allora, come vedete, qui abbiamo i cerotti, voilà, ragazzi, mentre non ci vuole molto, e che sconto ha bisogno. Una ricomerta del senestamelo. Here, ragazzi, I'm gonna show you what we gonna need. Come avete visto, ragazzi, dei cerotti, ovviamente, gli anelli stessi. Io uso una lama, perché è molto facile, come vi farò vedere, per tagliare i cerotti. Voilà, ragazzi, bien sûr, on ha bisogno dei bag. E moi, io uso una petite lama, perché è molto più facile, per coprire. E io vi ho mostrato, questa metoda, per moi, è più facile, per cacciare dei bag. Voilà, guardate, ragazzi, prendiamo un filo di metallo, come questo che vedete qui. Poi, ovviamente, il cerotto. Edì, bissarà, essa è il tariq, con il keram, che è la di, a rifà. As you see, guys, we put it like this, very easy. Then they stay, stable like this. E voilà, ragazzi, sono stabil, come sa. Va a turnare, tu smont. Li giriamo, ragazzi, piano piano. Ecco qua. Mentre non, un'altra lama. Bensur, il faut faire beaucoup attenzion, parce que, c'est dangereux, parfois. Qui, come vedete, taglio i bordi, in eccesso. Esiste un exemple, de deux bag. Questo era un piccolo esempio, de due anelli, ragazzi, perché avevo bisogno de due, parce que, j'avais besoin de deux bag. Voilà, apre un coupon 2, una, notre bag bien cachée. Bien sûr, ça, on essaie de faire de notre mieux, mais parfois, même comme ça, elle va le aulever. Mais au moins, 90%, on est sécurisé avec ça. Ragazzi, comme ho detto, ci sono alcune femmine che, anche nascondendo l'anello, provano, a toglierlo, perché, sont ostinates, et non nous faisons de notre mieux, donc, le 90%, c'est mal sicur, c'est ok? Donc, les gars, j'espère que vous comprenez, de regarder le vidéo. Je veux dire, parfois, nous avons des femmes, qui vont essayer, de, 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 Et, 90%, we are safe, ok? Comme je l'ai explained sess elf, c'est l'un social, il yandere, c'est worthy d'avoir admet, c'est prêt à la bittee, et tu as求interess, les girli, les ces grandes, t'asel. Quand de ne IKEI fa, tu neии этого motel, in shava Allah. Alors ragazzi, dans les prochain video, vous ederà, comment j'ai weight chosen, la mia technique, comment je vais servir, et tout, ok? Donc les gars, dans la prochaine video, je vais vous montrer, comment je mets la prescue, per le petit chardonnay, ok? In the next episode, I'll tell you how the finish of the Husson So guys, next time I'm gonna show you how I put the ring to my goldfinches my technique and what you need to do the right thing, ok? Allora ragazzi, io faccio anche gli arlecchini portoghesi perché mi piacciono molto e ho pensato di regalarvi una bella coppia come vedete, uno chiaro e uno un po' più scuro questi soggetti provengono da un ceppo molto importante Allora ragazzi, moi j'ai fait aussi gli arlecchini portoghais parce que j'aime bien le colore, le contraste, tout ça e j'ai pensé di vous faire un petit cadeau un couple, come vous voyez ici c'est un oiseau qui vient d'un souche très important e j'espère che vous allez aimer cet cadeau So guys, this is the gift that I promised to you a pair of harlecchini canaris these birds are coming from one of the best bloodline from harlecchains and I hope you're gonna like the gift this is the gift that I promised to you these are harlecchains canaris and I think it's also the name of harlecchains this is the gift of harlecchains this is the gift of harlecains but je vous promets que je vais le faire mais ça va être la fin saison ok Allora ragazzi, so benissimo que vous voulez anche un cartellino regalo e vi prometto che vi regalerò un bel cartellino ma questo sarà fine stagione ok So guys, I know you would like to have a goldfinch also as a gift and on the end of the season I'm gonna do that ok Allora ragazzi, per partecipare è molto semplice dovete lasciare un piccolo commento e un like ok così vedrò il vostro commento e faremo un'estrazione con un programma speciale che tirerà fuori il vincitore ma voglio soprattutto precisare una cosa come so dire patti chiari e amicizia lunga questo significa avete tre settimane di tempo per riterrare il soggetto dopo le tre settimane verrà postato di nuovo in gioco ok dunque ve lo ripeto ancora di nuovo il soggetto se non viene riterato dopo tre settimane verrà rimesso in gioco ok non c'è nessuna possibilità di invio da parte mia ovviamente se avete qualche società qualche trasportatore di animali ben venga non c'è nessun problema allora ragazzi è molto sempli io vi explico come partecipare per l'extraccion poi abbiamo utilizzato un programma insomma io vi mostro questo anche e vediamo chi ha il canale harlequin ok ma cosa molto importante io ne faccio nessun invoio quindi avete tre settimane di tempo se non avete ritirato il soggetto io lo mettere ancora una volta in una altra l'extraccion ok quindi io spero che avete bene non compri e moi io vi souviate beaucoup di chance so guys I wish you a lot of luck so guys